Rossini TV continua a ricevere segnalazioni di ingiustificati abbandoni di rifiuti. Tra i casi più recidivi, quelli degli accumuli di rifiuti ingombranti o speciali, che continuano ad essere accatastati fuori dalle postazioni dei cassonetti in cui non possono essere conferiti. E il caso di Apsella di Montelabate, così come di Bottego, Morciola di Vallefoglia, dove solo in questo mese di giugno sono apparsi gli oggetti che vi mostriamo in queste immagini. Materassi, sedie, stendini, scarti di edilizia, scarti di lavoro di materiali elettrici, borsoni eppure cumuli di indumenti usati che potrebbero essere invece riutilizzati a scopo del benefico, portandoli negli appositi cassonetti. Ricordiamo che si tratta di un comportamento illecito e in particolare per i rifiuti ingombranti di tipo domiciliare, così come per sfalce e potature, Marche Multiservizi fornisce anche il servizio di ritiro gratuito a domicilio contattando semplicemente il numero verde 800 600 999.